Oroscopo del giorno, lunedì 25 luglio 2022 Ariete Amore, la settimana nuova si aprirà con un lunedì abbastanza tranquillo. Chi ha avuto momenti no con il partner proprio oggi potrebbe provare a recuperare qualcosa. Emozioni nuove da non escludere per chi è single. Lavoro, meglio non attuare troppi colpi di scena, troppe esagerazioni per non avere delle ripercussioni. Toro, amore, forse proprio in queste ore potrebbe arrivare un qualcosa in più per il fronte delle emozioni, magari per i single che attendono da tanto tempo di fare una nuova conoscenza veramente interessante e speciale. Lavoro, il lunedì non sarà troppo intenso sul posto di lavoro, ma non dimenticatevi che a volte l'impegno può essere tutto da questo punto di vista. Gemelli, amore, occhi aperti perché in questa giornata potreste risentire di alcuni momenti no con il vostro partner e in generale nei rapporti. Molto probabilmente non sarete troppo sereni e lo si noterà facilmente. Lavoro, potreste sentirvi stanchi del vostro impiego, vorreste una maggiore soddisfazione, ma chiederla non vuol dire ottenerla. Cancro, amore, già da oggi finalmente potreste vivere una emozione in più e non solo se avete già una persona importante al vostro fianco. Infatti qualche novità inizierà ad intravedersi anche per chi ha il cuore libero da impegni sentimentali. Lavoro, non sarà un buon lunedì per il lavoro, specialmente per chi ultimamente non si è dato troppo da fare. Leone, amore, se siete innamorati aspettatevi un bel lunedì estivo. Infatti vorrete godervi tutte le emozioni possibili insieme al partner, insieme ad un affetto o ad una persona speciale che state iniziando a conoscere. Lavoro, una lunedì che inizierà con il piede giusto sul posto di lavoro. Molto bene. Vergine, amore, inizierete ad accorgere delle emozioni vere di quanto sono importanti. Per alcuni di voi sembrerà quasi una rinascita e chissà che non arrivino anche delle novità in campo. Lavoro, piano piano torneranno le giuste energie da mettere in campo. Il mood sarà già abbastanza positivo oggi. Bilancia, amore, da questo lunedì potrebbe iniziare una settimana di riflessione da ogni punto di vista, compreso quello sentimentale. Così potrete cominciare a tirare le somme, a capire di più. Lavoro, farà lo stesso per il lavoro dove ritroverete anche delle energie ottimali da sfruttare in ufficio. Scorpione, amore, questo sarà un lunedì senza troppe novità per la vostra storia d'amore, così come per i nuovi incontri dei single. Molto probabilmente sarete più presi dal lavoro che da tutto il resto. Lavoro, la voglia di realizzare non manca, ma occhio alle condizioni e soprattutto attenzione a non esagerare. Questo soprattutto dal lato finanziario. Tagittario, amore, potrebbe essere una giornata un po' complicata in cui con il partner e gli affetti potrebbero esserci delle incomprensioni. Proprio per questo fareste bene a tenere gli occhi aperti e ad evitare discussioni pesanti. Lavoro, fate attenzione a qualche intoppo o problema, potrebbero essercene. E occhio pure all'economia. Capricorno, amore, riflessioni in questa giornata, soprattutto per chi magari ha dei dubbi nei confronti della propria relazione. Oppure un single che non sa se fare un passo importante verso qualcuno. Lavoro, ultimo lunedì di luglio non facile per il lavoro. Sarà meglio andarci piano e tenere gli occhi aperti. Acquario, amore, già da oggi potrebbe esserci una certa area di novità per voi e le vostre emozioni. Per questo molti non si verranno indietro dal provare qualcosa di nuovo. Una bella situazione potrebbe farsi avanti. Lavoro, cercate di impegnarvi e di dare il massimo possibile per ottenere quello che volete. Potrebbe essere una lunedì particolarmente incoraggiante. Pesci, amore, per questa giornata di fine mese tutto dovrebbe proseguire senza grandi problemi sul fronte emozionale e delle relazioni. In fondo sarete molto impegnati sul lavoro e per questo l'amore potrebbe venire meno. Lavoro, tanti impegni e compiti da sbrigare, ma cercate di stare ben attenti a tutto ciò che avete intorno. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie. Grazie.